Il giornalerà di Vivi Centro Network Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network Direttore Mario Vollono Guardia di finanza, operazione make-up, esecuzione di una misura cautelare nei confronti di 12 soggetti per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio di auto Questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, coordinati dalla Locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare Emessa dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di 12 indagati, di cui 6 in carcere e 6 ai domiciliari, nelle province di Brindisi, Foggia, Taranto e Milano Le indagini hanno disvelato l'esistenza di un'associazione a delinquere, operante su Ceglie Messapica, Brindisi, dedita alla vendita di autovetture usate di provenienza furtiva La maggior parte delle quali rubate nel nord Italia, durante il periodo delle investigazioni, sono state già sottoposte a sequestro numero 4 veicoli aventi numeri di telaio ribattuti ed associati a falsi documenti di circolazione Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive